Oltre 200 espositori e vivaisti, mostre, incontri e laboratori a tema. Ha preso il via la dodicesima edizione di Verde Mura sulle Mura di Lucca nel tratto tra Porta Sant'Anna e Porta San Donato. Passata di recente sotto la direzione di Lucca Crea, la fiera fa fiorire il monumento cittadino con migliaia di piante, creando già di per sé uno spettacolo per gli occhi. All'inaugurazione della manifestazione, che proseguirà fino a domenica 7 aprile, erano presenti tra gli altri il sindaco Tambellini, la prefetto Simonetti e il procuratore capo a Lucca, Sucan. La fiera mette in luce le straordinarie eccellenze vivaistiche del territorio della Toscana, dalle realtà del distretto pistoiese, leader in Europa per la produzione di piante ornamentali, alle produzioni locali che operano in difesa della biodiversità, fino ai migliori produttori italiani di piante, per offrire ai visitatori un panorama a 360 gradi su quel che offre il mercato nazionale. Tra le specie al centro di questa edizione ci sono le camelie, gli ellebori e le orchidee. Ritorna nel programma della manifestazione la rassegna di novità librarie di giardinaggio Biblioteca Verde di Primavera, che si svolge nella cannoniera del baluardo Sandonato. E ci sono anche le iniziative per i bambini, per avvicinarli alle pratiche di giardinaggio e alla natura, e insieme invogliarli a scoprire la manualità.